Cari pellegrini, il 25 luglio del 1593 Enrico di Navarra, Enrico IV, diventerà re di Francia e convertendosi dal calvinismo al cattolicesimo. La storia racconta che fu una conversione strumentale, tant'è vero che a lui si deve la famosa espressione che viene fatta risalire a lui, poi bisogna vedere se effettivamente la pronunciò o meno, che dice così Parigi val bene una messa, cioè accettiamo questo sacrificio della conversione pur di accettare qualcosa di molto importante come appunto la corona di Francia. Allora facciamo un poco di mente locale, siamo nel cosiddetto conflitto dei tre ricchi, abbiamo Enrico di Navarra che poi diventerà Enrico IV che era Ugo Notto, poi Enrico di Guisa che faceva parte della Lega Santa che guidava la Lega Santa ed era cattolico e poi Enrico III che era l'allora re di Francia. Ebbe la meglio Enrico di Navarra che però per essere incoronato re di Francia dovette appunto convertirsi al cattolicesimo, da qui l'espressione che abbiamo, la frase che abbiamo evocato precedentemente, Parigi val bene una messa. Ora perché può essere interessante fare una riflessione apologetica in merito a questa coincidenza temporale, no? Siamo il 25 luglio, quindi 25 luglio del 1593, perché vedete alla fine tirando le somme per riprendere quella famosa espressione del principe della risata, Totò, no? È sempre la somma che fa il totale, tirando le somme in realtà tutto verrà a capovolto perché l'espressione di Enrico IV dice Parigi val bene una messa, cioè di fatto la conversione al cattolicesimo nel caso generale ma nel caso particolare appunto la messa è un sacrificio che si può tra virgolette sopportare pur di conquistare qualcosa di estremamente importante come la corona di Francia. Ma nella dimensione dell'eternità verrà tutto abbondantemente capovolto perché non c'è cosa più importante della salvezza dell'anima e quindi della conversione alla vera religione, che è la religione cattolica, apostolica, romana e non c'è cosa più grande del sacrificio della messa, della santa messa. Perché la santa messa? Questo l'abbiamo detto già altre volte, cari pellegrini, ma è bene ogni tanto che ce le ricordiamo queste cose, perché la santa messa è così importante? Voi pensate che una sola messa ha un valore infinito e una sola messa è il centro della storia ed è il centro anche dell'universo, quindi centro della storia nella sua dimensione temporale, centro dell'universo nella sua dimensione spaziale. Perché? Perché ogni messa è la riattualizzazione, attenzione non il ricordo, ma la riattualizzazione del sacrificio di Cristo sul Calvario. Quindi da un punto di vista mistico, non da un punto di vista, è chiaro che è una riattualizzazione incruenta, non dolorosa, però di fatto misticamente è lo stesso sacrificio, per cui in ogni messa viene riattualizzato il sacrificio di Cristo sul Calvario, per cui quando si è presenti alla messa in realtà non è che bisogna immaginare di essere i piedi della croce di Cristo, si è sotto la croce di Cristo, nella compagnia di Maria Santissima, delle piedonne, di San Giovanni, cioè coloro i quali che, stando ai Vangeli, stando a quello che ci raccontano i Vangeli, erano effettivamente lì fisicamente presenti ai piedi della croce di Cristo. E allora ogni messa ha un valore infinito, ed essendo la riattualizzazione del sacrificio di Cristo sul Calvario, e il sacrificio di Cristo sul Calvario è la restaurazione di tutto, è la restaurazione di tutto, è la restaurazione della storia ed è la restaurazione di tutto il creato. Ed ecco perché ogni messa è il centro della storia e il centro dell'universo intero. Tutte cose che evidentemente Enrico IV, re di Francia, Enrico di Navarra, a cui Enrico di Navarra non pensava. Allora vedete quell'espressione Parigi val bene una messa, nella dimensione dell'eternità deve essere capovolta. Una messa val bene Parigi, cioè la messa è qualche cosa di straordinariamente grande. È una messa val bene Parigi, con tutti i rischi di portare il fardello di una monarchia, perché vedete anche qui, fino a quando non si crede in Dio o si gioca con Dio, allora effettivamente è meglio comandare che obbedire, ma quando si crede veramente in Dio è il contrario, è meglio obbedire che comandare, perché nel momento in cui si riveste un ruolo importantissimo, come quella di un monarca, si assumono delle responsabilità enormi dinanzi a Dio relativamente a come si conduce e a come si gestisce questo potere. E allora nella dimensione dell'eternità non è Parigi val bene una messa, ma una messa val bene Parigi. Bene cari pellegrini, terminiamo qui, ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo editoriale e vi ricordo sempre che Dio è verità, bontà e bellezza.